Ora mancano solo 30 secondi alla fine. Sinisa Mijajlovic batte l'ultimo calcio d'angolo. Quando ho visto arrivare la palla, ho cercato di anticiparne il movimento e tirare quindi il più forte possibile. Vieni qua, vieni qua, mi dicevano gli altri con immensa allegria. Ci eravamo resi conto che la partita ormai era finita e che non c'era più niente da giocare. Quello che mi ricordo di quei momenti erano i miei compagni felici che mi dicevano che dovevo andare sotto la curva nord.